Ci siamo? 3, 2, 1, here we go! Hola Burdel, cari amici del canale Zucca, Palo Ale Calici Oggi inizio presentandomi, sono Zucca, come millanto sempre i miei figli, il più grande esperto di rugby italiano Loro mi compatiscono e mi dicono di sì In realtà sono solo un grande appassionato di rugby che mi piace condividere con voi i miei momenti liberi parlando di rugby e di vino Oggi parliamo di rugby, poi comunque guardate nel canale perché spesso ci sono anche delle recensioni sul vino Bentrovati, ben ritrovati, ben ringrassati a pranzo con Zucca E oggi il mio pranzo, visto che ho gozzovigliato un baghino, come si dice qui in Romagna, per tutte le vacanze natalizie Si limita del buonissimo tè, perché devo veramente smaltire di tutto e di più E a pranzo con Zucca, il mio momento in cui parlo con voi di rugby, di abbraccio E in questo momento è il primo a pranzo con Zucca del 2024, intanto vi auguro un 2024 ricco di soddisfazioni Superiore al 2023 come soddisfazioni, se ne avete avuto tante quindi ancora di più Se avete avuto un anno di Merola, ancora meglio che ci siano più soddisfazioni che Merola E comunque, come non parlare del rugby, del derby di ritorno fra Treviso e Zebra è andato in scena a Monigo Ancora una volta sold out, ancora una volta sold out, i Leoni stanno facendo un campionato alla grande E il pubblico risponde alla grande A Treviso il pubblico non ti regala niente, il pubblico è esigente Dan Danilo di Dan Pat Rugby, la più grande community di rugby italiana Il più grande content creator di rugby italiano di Treviso Ve lo dice sempre, a Treviso nessuno vi regala niente Quindi se hanno sold out per tanto tempo a fila Perché comunque già ha tantissime partite che ha fatto sold out Ok, 5.000, ma per carità di Dio, 5.000 tutte le volte Vuol dire che i Leoni se lo stanno meritando I Leoni che anche questa volta con le Zebre hanno fatto 5 punti Non ha dato neanche il punto di bonus questa volta Prestazione, non mi piace dire sotto tono delle Zebre perché non è vero Le Zebre hanno fatto quello che dovevano fare Hanno sbattuto in una Benetton veramente solida Veramente efficace, efficiente in difesa Con una difesa dove Con una difesa dove Sono tutti i miei colleghi che vanno a mangiare Con una difesa dove è stato fatto di tutto e di più Per cui le Zebre hanno giocato una gran bella partita Hanno avuto il pallino del gioco in mano per diverso tempo Però la difesa di Treviso li ha tenuti lì Treviso ha giocato una partita A mio avviso non ha giocato la migliore partita dell'anno Però ha fatto quello che doveva fare Ha iniziato subito col piede giusto Con una meta subito dopo pochi secondi E ha... No, ma che a metà? Prima, subito inizio del secondo tempo Ha già centrato il punto di bonus E Treviso ha una squadra con una profondità Veramente impressionante Cioè, noi guardiamo la linea Scusate, mediana messa in campo Sabato, non mi ricordo neanche quando ha giocato Ma comunque messa in campo con le Zebre Garbisi Jr. e Lucchin Una linea Una mediana Del 2002 Che hanno tenuto in panchina Andy Ural In tribuna Da Venegi in panchina Per il 9 In tribuna Giacomo Gumaga E Albornoz in panchina Quindi, cioè, ha una profondità Spaventosa C'è il fortunato Dogu Bocca al lupo Paolino E... Tratta in campo Mendy Mendy Primo pallone toccato Meta, pafura e bestiale Comunque ha una linea Diciamo Una profondità E una rosa Veramente Molto, molto, molto Di qualità Soprattutto negli 8 Che entrano a sostituzione dei titolari Quindi Non c'è da meravigliarsi Che si straviglia in questo momento E a seconda in classifica Diciamo sì Che qualcosa Ha girato per il verso giusto Adesso i 10 punti Nei due derby Comunque erano da fare I 10 punti Perché comunque Soprattutto al derby D'andrata Le Zebre hanno giocato Hanno venduto Veramente carissima la pelle Zebre hanno dei giocatori Uno su tutti I Ruggeri Che sono dei Dei bei Gatti attaccati Gli Zebedei E... Comunque Sarà giocata Poi C'è sicuramente Il discorso Delle Sudafricane Che devono inserire ancora Stanno inserendo adesso Piano piano i nazionali Blablabla Però Anche Treviso Ha inserito i nazionali Con un po' alla volta Insomma Non La classifica In questo momento È veritiera E la rosa di Treviso È qualcosa di Fenomenale Bevo perché mi sono Ho fame Dunque Un match Combattuto Un match Anche divertente Un match Che Ho avuto anche In qualche momento Che è stato Un po' Spigoloso E... Treviso Ha una Mischia Dominante E soprattutto Ha una terza linea Spaventosa Cioè Vabbè Domenica Giocava Negriotto L'Amaro E Isacor Pacchina Cannone Pacchina Ruzza Che poi ha giocato Un pochettino Quindi C'è Treviso Come ripeto Per l'ennesima volta Ha una rosa Di campioni E quindi Facciamo i debiti Scongiuri In questo momento Senza una playoff E speriamo di rimanerci Fino alla fine E... Io voglio parlare un po' Delle Zebre Zebre Secondo me Stanno facendo Un gran Un gran Un gran bel Un gran bel Un gran bel Campionato Giocano bene In questo momento Hanno Hanno qualche bel Gioca Hanno diversi Bei giocatori Giovani E... Comunque E giocano bene Giocano bene Ho detto l'altra volta Che secondo me Se fanno Quello scatto A livello Chiamiamolo Societario Riescono ad essere Veramente Inizieranno ad essere Veramente Più fastidiosi Di quello Che lo sono Già Attualmente Scatto Societario Vuol dire Trovare anche Un minimo Di autonomia Dalla No È la franchisa federale Di sviluppo È vero Però come lo è stato Il connact Per tanto tempo E quando si trova Chiamiamoli Dai Diciamo le cose Quest'anno Due soldini in più E un pochino Più di qualità In certe aree Diciamo Di societarie Ecco che Questi 12 punti Fatti fino adesso Che sono già Di più di quelli Fatti nell'anno scorso Potranno diventare Ancora di più Perché giocano bene Giocano un bel rugby Le zebri Hanno spesso La palla nelle mani Però Chiaramente Quando tu hai Una rosa Diciamo Non risicata Però Tanto è inutile Dicare le cose Come stanno Un gradino Sotto quella Di Treviso Dopo è normale Che ne paghi Le conseguenze Allora Mio personalissimo Man of the match Lucchesi Lucchesi ha avuto Un impatto sul match Estremamente Positivo Credo che non abbia Sbagliato una rimessa Laterale Che una Ha marcato la prima meta Timonando Alla grande Un drive La rimessa laterale Ha marcato Quindi la prima meta E soprattutto Ha fatto un assist Per Isegore Di piede Su una furba Che sono ancora là Che aspettano Cercano di vedere Dove è passato Per Isegore Che poi ha fatto La meta del bonus Mi pare che fosse La meta del bonus Quindi io A mio modestissimo Parese Lucchesi Man of the match Anyway Vi rifaccio Torno dentro A lavorare Che è ora Vi rifaccio I miei migliori auguri Per un bellissimo 2024 Di pallovale Di vino Di tutto quello Che volete Mi auguro Che viate passato Un cenone Dell'ultimo dell'anno Alla grande Insieme alle persone Che a voi sono care I vostri amici Vi siate divertiti Abbiate bevuto E mangiato Ci rivedremo Adesso Quotidianamente A pranzo Con zucca Vi ringrazio Vi chiedo Di supportare Il canale Facendo pubblicità Chiedendo agli amici Di mettere like Ascoltare le mie stronzate Così Quando dico Delle stronzate Me lo scrivete Me lo fate presente Alla prossima Hola Burdel